Sfruttiamo bene. Massimiliano Bellarte saluta l'acqua e sapone Unigross. Le strade del coach di Ruvo di Puglia e della società Nerazzurra si dividono, anche se soltanto qualche giorno fa sembrava fatta per la conferma. Il tecnico e la società si erano infatti incontrati e c'erano tutti i presupposti per il rinnovo. Ieri sera la decisione, ma senza polemiche. Lo stesso presidente del club, Nando Barbarossa, nel comunicato diffuso dalla società, ha spiegato Lo ringraziamo per il lavoro svolto. Il club è stato il primo a regalarci dei trofei in Serie A e si è sempre distinto per un futsal divertente apprezzato in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali. Il mister ha fatto una scelta di vita e la rispettiamo. Probabilmente lascerà il calcio a cinque. Con immensa gratitudine, ha concluso Barbarossa, lo salutiamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia le migliori fortune personali e professionali. Dopo aver guidato la squadra della famiglia Barbarossa per cinque stagioni, dal 2011 al 2016, Bellarte era tornato la scorsa estate alla guida di Murillo e compagni con un contratto annuale. La stagione è stata però interrotta lo scorso marzo a causa dell'emergenza coronavirus e chiusa ufficialmente in anticipo dalla FIGICI dopo l'ultimo consiglio federale. Bellarte in nero azzurro ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, giocando una finale scudetto nel 2014. Ora in casa Acqua e Sapone si sfoglia la Margherita per scegliere l'erede in panchina. Tra i nomi possibili, quello dello spagnolo Marin, ex Luparense. Altre ufficialità in casa nero azzurra. Iesulito torna a giocare in Spagna. Coco ha rinnovato il contratto, confermato anche il Bomberghi. Infine nelle prossime ore dovrebbe arrivare il rinnovo del portierone Mammarella.